Ciao guys, sono molto felice di presentarvi la nuova limited edition Pantene per Moschino e sono molto contenta di dirvi che ci sarà una seconda edizione di Forti Insieme. Io Pantene Moschino vogliamo supportare i progetti imprenditoriali ad alto impatto sociale. In premio ci sono 75.000 euro per il vostro business, qua vi metto il link per partecipare, avete tempo fino al 16 gennaio. Grazie a tutti. Grazie mille, adoro leggere commenti del genere. In generale adoro leggere i vostri commenti, mi piace l'idea che alcuni di voi mi abbiano scoperto da poco. Mi piace tantissimo che alcuni di voi mi abbiano seguito proprio dall'inizio o da anni e anni abbiano visto i miei cambiamenti, anche le diverse fasi della mia vita. Ogni tanto penso sia giusto ringraziarvi ancora una volta per tutto l'appoggio che mi date. Se sono riuscita a realizzare tutti i miei sogni, a fare tutte queste esperienze fantastiche, lo devo a voi che avete creduto in me da sempre e veramente siete la mia dose giornaliera di buon umore. Quindi grazie mille.